Purtroppo è così, vai a fare tante analisi, ma l'analisi vera e senza accampare altre situazioni da poter verificare, è proprio questa. Dovevamo far gol, non l'abbiamo fatto e l'abbiamo subito in una delle poche situazioni, tra l'altro da fermo, che abbiamo concesso, per cui andiamo a casa senza nulla, è una partita che è dell'incredibile, però. Dobbiamo lavorare per essere ancora più bravi, perché se non basta creare così tante occasioni vuol dire che dobbiamo fare meglio, però siamo in momenti in cui tante volte basta molto meno per vincere una partita e in questo momento per vincere una partita non ci riusciamo nemmeno quando proprio abbiamo una supremazia netta nei confronti di un'avversaria che per larga parte della partita è stata proprio alle corde da noi. Si sono un po' riprese nel secondo tempo e hanno sfruttato quel gol, abbiamo trovato anche un po' di morale e noi probabilmente le dinamiche delle partite cambiano anche proprio per quello che riesci a capitalizzare, per quello che riesci a fare. È un peccato perché la squadra anche oggi ha fatto una prestazione, una buonissima prestazione.